L'undicesima edizione delle Fonti Awards si è tenuta martedì 26 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. La cerimonia ha segnato l'autorevole riconoscimento agli studi legali, alle imprese e ai professionisti che nell'ultimo anno, malgrado le gravi conseguenze economiche della pandemia, si sono distinti per essere delle eccellenze nei loro settori di riferimento e per aver saputo coniugare professionalità e innovazione. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Categoria diritto amministrativo, andiamo a premiare la boutique di eccellenza dell'anno diritto amministrativo, appalti pubblici. E questo premio va a Studio Legale Segalerba. Studio Legale Segalerba. Eccolo. Allora, la motivazione, mentre raggiunge il nostro red carpet per la professionalità, la trasparenza, la tempestività e precisione nello svolgimento degli incarichi, la versatilità e il supporto costante al cliente. Complimenti. Abbiamo finito proprio con l'ultimo passo sul palco e adesso le foto. Complimenti naturalmente. Boutique di eccellenza dell'anno, diritto amministrativo, appalti pubblici. Complimenti. Buona serata. Siamo in compagnia dell'avvocato Paolo Segalerba, fondatore e titolare dello studio Segalerba. Buonasera, benvenuto. Buonasera a lei. Ecco, questa sera il suo studio ha ottenuto il riconoscimento come Boutique di eccellenza dell'anno nel settore diritto amministrativo appalti pubblici. Come commenta questa vittoria? Guardi, innanzitutto sono onorato di questo riconoscimento che premia un lavoro svolto in un periodo di tempo particolarmente difficile che abbiamo attraversato e da qui non si è ancora del tutto usciti purtroppo. In più mi rallegro del fatto che venga dato un riconoscimento a una prestazione altamente qualificata, altamente specialistica più che altro, svolta pur nell'ambito di una boutique di studio. Ecco, il suo studio ha sede a Bolzano e ha un'ampia expertise in ambito di diritto amministrativo ma anche in altri settori. Ci può illustrare la storia della vostra realtà e anche dire come si definisce il vostro approccio? Certamente. Lo studio nasce a Bolzano, nasce in Alto Adige nei primi anni del decennio scorso, nei primi anni del 2010-2011, in relazione all'esigenza di diverse imprese di costruzioni operanti in ambito locale di poter avere un'assistenza in materia di appalti calata sulla legislazione nazionale e in un momento di passaggio dalla normativa provinciale che prima regolava gli appalti pubblici nella provincia di Bolzano, sino per l'appunto alla normativa nazionale abbracciata dalla provincia autonoma in attuazione delle direttive eurounitarie sugli affidamenti pubblici. Quindi la mia attività in qualche modo si è sviluppata, ha avuto un'esplosione in quel contesto. Io avevo una formazione romana, venivo da uno studio prestigioso di Roma e ho abbracciato questa avventura per calarmi in una realtà locale estremamente però dinamica e giovane lavorativamente e imprenditorialmente. L'attività si è poi sviluppata anche in altri ambiti territoriali e diversificata in relazione agli obiettivi imprenditoriali delle imprese alle connesse esigenze di tutela legale che venivano mosse dagli operatori. Sotto questo aspetto mi sento di dire che l'approccio dello studio è estremamente personalistico, è proprio della dimensione di boutique che in questa serata mi viene riconosciuta. L'approccio personale, l'approccio calato all'interno della singola realtà aziendale in modo tale da garantire un flusso costante di informazioni e una relazione personale con chi opera all'interno dell'impresa in modo tale da partecipare a tutte le scelte sin dal momento genetico delle stesse, in modo tale da evitare il contenzioso oppure in funzione deflattiva di un contenzioso che possa o debba nascere. Ecco, parliamo ora degli obiettivi che avete per il futuro. L'obiettivo è di diventare grandi e di crescere. In un momento in cui si deve guardare al futuro con ottimismo, anche gli studi legali devono cercare di proiettarsi verso il futuro, diversificando le materie trattate e pure l'ambito di appartenenza che non può essere solamente localistico, in modo tale da garantire una tutela a 360 gradi a quello che è l'operatore che gravita intorno allo studio legale, ma che costituisce, a mio avviso, l'ossatura, l'asse portante dell'economia nazionale, cioè la piccola media impresa. Tutto questo però senza sacrificare l'aspetto personale della prestazione e senza diminuire la qualità complessiva, lo standard qualitativo massimo della prestazione che deve essere sempre garantito, se del caso attraverso sinergie con altre realtà professionali, altrettanto o se non di più consolidate a livello nazionale. Grazie a tutti.